Un pomeriggio Santa Marta, un'iniziativa alla quale la gente perché dovrebbe venire? Per riuscire a capire e proviamo a spiegare bene che cosa sta succedendo sul quadro pensionistico generale, quale futuro delle pensioni. Ed è interessante perché abbiamo Punto Patta che è all'interno dell'Inps come delegato della CGL, tra l'altro ex segretario nazionale del pubblico impiego, per cui è una persona abbastanza conosciuta a livello nazionale e che ci aiuterà a capire questa situazione. Ci sarà un minimo di dibattito con le conclusioni della segretaria provinciale della Camera del Lavoro, Enrica Valfrè. Una situazione per quanto riguarda i pensionati che preoccupa sia per i pensionati che per i pensionandi, anche se qualcosa forse sta cambiando? In generale siamo preoccupati per la tenuta delle pensioni perché comunque l'Inps sta male e di conseguenza, verrebbe da fare come ragionamento, anche le pensioni potrebbero star male. Anche se negli ultimi accordi verbali di accordo col governo, noi pensionati possiamo ritenerci, tra virgolette, abbastanza soddisfatti perché a casa abbiamo portato la quattordicesima, abbiamo portato l'ampliamento della no tax area, abbiamo portato il cumulo gratuito per i periodi assicurativi, quindi una certa uscita dal tunnel parrebbe esserci. Questo però non ci soddisfa pieno, noi dobbiamo ancora vigilare sul tema dei pensionandi, sulla possibilità di poter andare in pensione non a 70 anni, ma al superamento della Fornero e poi soprattutto siamo preoccupati del fatto che il problema previdenziale va avanti a pezzi e a pezze e non viene visto complessivamente nel suo insieme. Cominciamo dallo spirito col quale è stato organizzato questo incontro che avrà la relazione di Giampaolo Patta, quindi una relazione importante. Qual è lo spirito con cui avete voluto questa iniziativa? Ma nello spirito praticamente abbiamo due obiettivi, il primo è informare su quello che è la realtà, la situazione, lo stato delle pensioni, il loro futuro e poi la situazione dei bilanci dell'Inf, perché siamo abbastanza preoccupati, infatti il secondo motivo è la preoccupazione, che il sistema previdenziale italiano, così come lo conosciamo, rischia di avere un futuro, diciamo, un po' oscuro, perché ci sono problemi. Partiamo dal futuro delle pensioni, un futuro non così certo, non solo per i pensionandi, ma anche per i pensionati forse? Sì, per i pensionati è un futuro un po' fosco per certi versi, perché se pensiamo agli effetti della riforma Fornero, al contributivo, al fatto che per garantire i requisiti per andare in pensione occorrono un certo numero di anni continuativi di lavoro, eccetera, eccetera, con certi livelli di costo, di salario, si prospetta quindi un futuro non certo brillante, quindi soprattutto i giovani in particolare rischiano di vedere le loro pensioni, non so a qualità, dai 67 ai 70 anni, e poi soprattutto arrivare a una pensione minima, una pensione sociale che poi dopo sicuramente non serve per mantenere una vita decorosa. Da un lato c'è questo aspetto, quindi per i pensionati attuali, insomma, se il sistema IMS a un certo punto non ce la fa più, o rischiano di non farcela più, io adesso non voglio drammatizzare se ha dei problemi, e per loro anche, insomma, la cosa non è che si metta meglio. Teniamo conto che abbiamo 11 milioni di donne, se non ricordo male, in Italia, di donne che prendono una pensione al di sotto dei 1000 euro lordi, per cui ci sono serie preoccupazioni, cioè, ripeto, il problema è della tenuta del sistema previdenziale pubblico, Ma sono i pensionati che creano questo buco nei bilanci dello Stato, come a volte si dice? Ma no, su questo c'è veramente molta, diciamo, confusione dei migliori dei casi, secondo me anche strumentalizzazione. No, perché l'origine del debito pubblico italiano, ad esempio, va ricercata in autocause, io ne cito soltanto una, 1941, divorzio tra Banca d'Italia e Tesoro, e questo ha comportato una lievitazione di tassi di interesse sul debito contratto spaventosa. Ci sono, da questo punto di vista, statistiche, tabelle che troviamo anche nei siti, diciamo, ufficiali, dalla Banca d'Italia a Ragionerie dello Stato, e poi per stessa menzione di uno dei protagonisti di allora, il ministro Andreatta, c'è un articolo, mi pare, del 1993, che si può trovare su Sole 24 Ore, il quale dice, sì, spiega perché di questa manovra, però dice, state attenti, però a questo punto i tassi di interesse, chissà, tenderanno a volare, in sostanza, no? Per cui da lì c'è stata la svolta. Poi ci sono state anche altre concause, che sono la bilancia commerciale, io ricordo sempre che in Italia abbiamo un'altra evasione fiscale, quindi un basso livello di entrate, eccetera, eccetera. La spesa, l'incidenza delle pensioni, cioè ci sono alcuni dati che dicono il 16%, che incide per il 16% sul PIL, però non si tiene conto di due fattori. Il primo è che per intanto i pensionati poi pagano in tasse, quindi restituiscono, se non ricordo male, circa 150 milioni all'anno in tasse, non vorrei dire però, vanno un po' così. E il secondo è che appunto non si tiene conto che quando si cita questo dato, che dentro la cosiddetta spesa previdenziale si include anche la spesa assistenziale, che non dovrebbe centrare proprio niente. Per cui se includiamo questi due fattori, si passa dal 16% al 12%, già di incidenza sul PIL, che però non è incidenza sul debito. Per cui, poi dopo, ci sono problemi, certo ci sono, nell'Inps ci sono problemi, ci sono problemi di casse che sono in deficit, non certo le casse di lavoratori dipendenti che vanno affrontate. Senza penalizzare, non voglio dire, senza criminalizzare nessuno, però va detto dove stanno i buboni e vanno affrontate, possibilmente non con degli spot, ma in maniera più organica, dando le opportune gradualità, però vanno affrontate. Innanzitutto dicendo dove stanno i problemi. Lo spirito quindi del vostro pomeriggio in Santa Marte è proprio questo, quello di definire un quadro della situazione delle pensioni, ma diciamo soprattutto anche dell'Inps, per capire là dove bisogna intervenire. Perché nell'Inps, al di là dei problemi di gestione, in questo carrozzone c'è chi paga, c'è chi prende, senza magari aver pagato quanto ha preso, e c'è una commistione forse di fondi, o un trasferimento di fondi da fondo a fondo, che alla fine rischia di penalizzare tutto. Se il carrozzone casca, cascano tutti. Beh, innanzitutto sì, è così, nel senso che sicuramente nell'Inps, cioè, siamo preoccupati per la sostenibilità del sistema Inps. Nell'Inps ci sono dei problemi, il problema non è tanto c'è chi paga, chi non paga, no, non è così. Ci sono delle casse, vedi i lavoratori dipendenti, i parasubrinali, che sono inattivo, quando dico casse lavoratori dipendenti, sono comprensivi della GPT, anche delle gestioni e prestazioni temporanee, che sono inattivo sia da un punto di vista patrimonale che da un punto di vista di esercizi, altre casse invece che continuano ad essere in deficit. E queste cose vanno affrontate, quindi il fatto che siano in deficit non vuol dire che non messano niente, vuol dire che ci sono dei problemi di bilancio e che per il tanto vanno detti, vanno chiariti e poi vanno affrontati. Quindi, ripeto, io lo sottolineo, noi vogliamo sì cercare di fare chiarezza, dire dove stanno veramente, almeno per quanto concerne il discorso IMSS, dire dove stanno i problemi, secondo noi, e su questo aprire un confronto, non una crociata, un confronto per vedere come affrontarlo, sapendo che se il sistema non regge, non è che poi dopo non regga solo per i lavoratori dipendenti, non reggerà poi più per nessuno. E non possiamo pensare che il tutto possa essere in qualche misura sostituito con la previdenza privata, perché, a parte il fatto che per farsi una pensione integrativa, se lasciamo l'individuo, insomma, c'è chi i soldi ce l'ha per investire, chi no, se vediamo l'andamento dei salari in Italia, io non vedo che ci siano molte possibilità da questo punto di vista. Possono esserci forme di previdenza integrativa, quelle contrattate, non contrattate, eccetera, eccetera, adesso non voglio aprire un discorso lì sopra, ma forma di previdenza integrativa, non sostitutiva.